Musica Allora, io sto partendo su un ascensore E ora partiamo Stiamo aspettando l'aereo Sì però io non ce l'ho la luce Vabbè, stiamo aspettando l'aereo Che doveva partire tipo alle 10.50 Quale cosa del genere E noi abbiamo finito di mangiare la pizza Esatto C'è un libro, però non si vede Anche Games Perché lei è bulla e può Sì vabbè più o meno Dovrebbe intere di essere quello Però non si vede Sì è l'unico aereo che c'è nel paraggio Ma non è quello babbo Vabbè, è quello ragazzi È quello No, non è quello Vabbè E niente Metta anche al sole Non si vede più Eh, infatti Va bene Ok Ci vediamo a Londra Ci vediamo a Londra Bella Bella Siamo arrivati a Londra Siamo arrivate Dopo due ore di interminare di aereo Esatto, io ho dormito tutte e due le ore Ci sta La cosa ci sta Perché c'era mia sorella Che rompeva Cioè, ti conto Vabbè, adesso tipo stiamo andando a cambiare i miei soldi Perché sono una babba Non è che li ho cambiati in Italia No Sono una babba Quindi devo cambiare di ore serline E poi andiamo a prendere the train Che ci porta poi all'albergo, giusto? Yes, baby Yeah Bella Siamo arrivati a Londra Tipo la nostra prima reazione La nostra prima reazione è stata Esatto Oddio, un pulmino doppio No, dai, oddio Troppo bella Troppo bella Troppo bella Cioè, ci sono tutte le case tipo Con i mattoni È una cosa troppo bella Guardate Olè, è il nostro albergo Olè, guardate là Quello col coso blu Bella, siamo arrivati in hotel Olè Si sboccia Allora Allora, questa quella è la vista Aspettate, vi faccio vedere Allora, vabbè Lasciando perdere il bellissimo Oddio, c'è un grattacielo Questa quella è la vista Non si vede niente Sì, ma ti fermo Non si vede? No, è più là Aspetta Lili Aspetta che lo prendo Lo prendo Vabbè Allora Adesso Ci riposiamo un attimo E poi usciamo Andiamo in giro Tipo Appena Siamo riusciti dal treno Gli chiedevamo Ok Ok Raga, vogliamo parlare di quanto sono fighe Stiamo niente Cioè Sono troppo belle Sono troppo belle Salve Allora Siamo a Piccadi di Circus Qui tardi andiamo a Trafalgar Square Ma metto solo le foto Non faccio il video Siamo a Piccadi di Circus Siamo a Piccadi di Circus Sì, aspettate, aspettate Cioè È piccolino È lì È lì Aspetta Quella Esatto Cioè Oddio dove sono i tuoi? Allora Cioè Nelle foto Sembrava molto più grande Nelle foto Sembrava molto 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 più grande Lo sicuro Cioè Vabbè Non è fantascienza Credetemi Madonna Raga È la cosa più bella del mondo Guarda lì È il negozio degli M&M's 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 Ragazzi È la cosa più bella La cosa Bella del mondo Non si può Allora Gli ho fatto la doccia E adesso Aspetto un attimo Come si asciugano E poi andiamo a dormire Invece con la strampalata È lì Io leggo E si sta benissimo In teoria dovremmo andare giù Perché Che bello il mio pigiama Vero? Troppo bello In teoria dovremmo andare giù Perché giù C'è un ristorante Dell'albergo Che c'è il wifi E siccome qua siamo a Londra Nel 3G normale Non prende Quindi andiamo lì Che c'è il wifi Però sta babba Non c'ha voglia Non abbiamo Le promozioni E sta babba Non c'ha voglia Perché è la babba Ovviamente Non c'ha sbatti Cioè È tardi Anche se tipo È l'ora indietro L'ora L'ora Rispetto all'ora Che c'è A vado Cioè Vabbè dai È tutto buio E sembrano tipo le 11 Vabbè dai Buonanotte Buonanotte Il primo giorno è finito Adesso domani Inizia un altro giorno Esatto Più impegnativo ancora Bella Ciao ciao